Almeno 41 turisti francesi sono rimasti feriti a Cuba per l'incidente all'autobus su cui stavano viaggiando. 8 di loro sono ricoverati in codice rosso, 15 in codice giallo e i restanti in codice verde sono stati dimessi. Secondo le testimonianze raccolte, il bus si è scontrato con un camion mentre stava viaggiando da Santa Clara a Varadero, lungo una strada nazionale. I turisti, in gran parte pensionati, provengono dal nord-est della Francia. Il governo francese, per bocca del primo ministro Valls, ha assicurato che farà il necessario per assistere i feriti sul posto e garantirne al più presto il rientro a casa.